È stato un incontro cordialissimo, quando si incontra molti si parla di Italia, si parla di Italia ed Europa e quindi la sostanza di questo incontro è stato uno sguardo sulle scadenze che abbiamo davanti, innanzitutto a livello europeo e internazionale e quindi un esame su quale debba essere la posizione dell'Italia davanti alla roadmap europea, il percorso da costruire per una politica europea e come rassicurare il mondo che siamo su una strada buona e quindi uno sguardo anche sulle prospettive politiche, abbiamo parlato anche di come possa essere una legge elettorale, di quali possono essere le prospettive della situazione per il nostro Paese, abbiamo parlato anche dei temi del momento, certamente, e quindi della crisi, della crisi che ci preoccupa e che mi preoccupa, il lavoro, i grandi temi sociali, le esigenze di affrontare le nuove decisioni, a cominciare dalla legge di stabilità sotto un profilo di attenzione molto forte al tema sociale, che è serio, è grave e che ci preoccupa. Credo che sia venuto fuori da questo incontro ancora una volta la lealtà nostra verso Monti e verso questo governo, con le nostre idee, i contributi che vogliamo dare, ma con in mente l'Italia che è davanti a una prospettiva complicata, un passaggio difficile che richiede da parte di tutti assoluta serietà e verità. Questo è il punto su cui ci siamo in tese.